Ha eseguito gli ordini perfettamente. Ottimo lavoro. Siete dei bravi tedeschi. Grazie. Savatsky. Mi domandavo quando sarebbe arrivato. È davvero lui. È Hitler. Ho mai affermato qualcosa di diverso? A quanto pare il mio destino è questo, dovermi separare da coloro a cui tengo di più e dai miei compagni di lotta. Eh, già. Ha ragione. La storia si ripete. Anche oggi con la propaganda si inganna il popolo. Oh, Savatsky. Lei non capisce. Nel 1933 nessun popolo è stato ingannato da nessuna propaganda. Mi hanno scelto come Führer e avevo espresso le mie idee con molta chiarezza. La Germania mi ha eletto. La Germania mi ha eletto.